Le questioni di fiducia, sì, diciamo che erano quasi tre mesi che non si mettevano le fiducia, adesso è stata messa la fiducia questa notte, ma però erano quasi tre mesi. Ci sono stati provvedimenti importanti che non hanno visto la fiducia, questo a dire che si possono anche discutere e decidere provvedimenti importanti senza comprimere gli spazi del dibattito, la pubblica amministrazione, la scuola, l'anticorruzione, provvedimenti che sono andati in aula dove non è stata apposta la fiducia. E comunque anche il numero delle fiduce è inferiore rispetto alla legislatura precedente.